Discutere sulla creazione di un'agora culturale degna di un capoluogo regionale come Perugia, questa è l'intenzione del dibattito pubblico che si è svolto lunedì sera al postmodernissimo sul Turreno, dal quale è emersa una diversa visione della città e degli spazi per la cultura da parte di alcuni operatori presenti e da parte delle istituzioni. Chi pensa al Turreno come ad una struttura polivalente, ovvero il comune di Perugia, e chi invece, umbria jazz in primis, chiede un teatro per portare grandi eventi e c'è chi obietta che uno spazio polifunzionale andrebbe ad incidere su altre attività commerciali. Il piano di recupero è arrivato ad una fase di stallo, da qui il dibattito voluto, introdotto e moderato dalla presidente di Start, Angela Giorgi, Paolo Belardi, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Perugia, ha avviato una riflessione sul recupero del teatro, sulla città e sulla concezione degli spazi pubblici destinati alla cultura. A seguire gli interventi di Carlo Pagnotta per Umbria Jazz e Virgilio Ambroglini per la Fondazione Sergio per la Musica, oltre che dei rappresentanti delle istituzioni, tra cui l'assessore comunale Michele Fioroni e Baldissera Di Mauro, dirigente responsabile delle attività culturali della Regione dell'Umbria, presente in sala anche Gian Piero Bianconi della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, a completare i soggetti che insieme a Regione e Comune di Perugia hanno firmato il protocollo di intesa sul Turreno. In rappresentanza della Regione di Mauro ha ricordato l'Iter che, dopo l'acquisto della struttura da parte della Fondazione CariPg, prevedeva l'impegno finanziario della Regione e quello progettuale del Comune. Dopo i 3 milioni di euro dell'agenda urbana che la Regione ha destinato al recupero del Turreno, il Comune dovrà individuare un progetto a partire da due ipotesi, quella dello stralcio funzionale con i 3 milioni di euro sul piatto o quella del progetto completo con l'individuazione di una possibile fonte ulteriore per arrivare a 1,2 milioni di euro mancanti. Di Mauro è invitato a non sottovalutare la problematica della gestione con il Comune ha detto che non è in grado di sopportare i costi del Morlacchi, figuriamoci quindi il Turreno. Su questa difficoltà ha incentrato il suo intervento anche l'assessore Fioroni che ha detto non possiamo permetterci un Turreno che costerebbe all'amministrazione 400 mila euro l'anno, serve una proiezione realistica, il concetto di polifunzionalità aggiunto è legittimo ed il Turreno ha chiuso perché il modello su cui si basava non era più valido. Per la vicenda Turreno capienza e destinazione sono stati i punti più discussi, questa è l'ultima occasione che ha la città di Perugia per realizzare uno spazio degno, così Carlo Pagnotta, Umbria Jazz, che ha aggiunto Perugia deve avere il teatro più grande dell'Umbria, obiettando poi il Comune con i soldi degli altri ci vuole fare quello che gli pare e soprattutto quello che gli costa meno.